Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. In Ezechiele, capitolo 36, verso 25, dice così, leggiamolo insieme. Vi aspergerò d'acqua, d'acqua pura, e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli, cioè tutte le adorazioni che avete fatto, sbagliate verso idoli, verso stregonerie, magie, io vi purifico di tutto, dice Dio. Quando noi andiamo al Signore per confessare, sappiamo che ci siamo sporcati e diciamo, Signore, purificami, con il desiderio di non continuare più. La parola di Dio, anche a questa funzione, ci lava. Ora, leggiamo dove lo dice. In Efesini, capitolo 5, verso 26, dice che la parola di Dio ci lava. Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Grazie, Signore. Ma come lava il nostro cuore la parola, l'acqua? Adesso guardiamo insieme. Lavandoci con l'acqua della parola, ed è anche la spada dello Spirito. Leggiamo insieme in Efesini 6, 17. Efesini 6, 17, dice così. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Dunque, la parola di Dio ci lava e la parola di Dio diventa la spada dello Spirito. Che vuol dire la spada dello Spirito? Quando il nemico ci propone delle bugie, noi uccidiamo la bugia con la verità. La spada dello Spirito è spirituale ciò che sto dicendo. Il nemico ci propone una bugia, ci dice qualcosa. Come faceva con Gesù? Gli diceva una bugia e Gesù diceva, no, sta scritto. Ed ecco che quella veniva annullata, uccideva la bugia. Queste ci servono, perciò ci serve la parola del Signore. La parola del Signore ci rigenera, ci lava, ci purifica. Bene. Riceviamo perdono e purificazione dal Signore, senza andare a buttarci nell'acqua sporca e senza, ricevendo la parola del Signore con uno spirito di umiltà, chiedendo al Signore di farci comprendere quello che ci dice. Rileggiamo il verso 25 del capitolo 36. Bellissimo questo. Diamogli una parte del nostro cuore che è indurita e Lui ci dà un cuore nuovo. Infatti, dopo questo verso 25, leggiamo il 25 e il 26, così comprendiamo che quando noi ci accostiamo a Dio per voler ricevere la purificazione col cuore, col desiderio, Lui fa un'altra cosa. Non solo ci purifica, ma ci dà un cuore nuovo. Cioè, è come prendere l'hard disk di un computer che si tira fuori l'hard disk e si mette dentro un nuovo. Un nuovo hard disk con programmi nuovi, giusto? Vuol dire che da quel momento in poi funziona il nuovo programma. Noi, non appena siamo nati di nuovo o quando cominciamo ad accostarci al Signore, la parola del Signore ci dà delle indicazioni e noi le applichiamo nella nostra vita. perché ora stiamo mettendo i dati nuovi per la nuova vita che dobbiamo vivere con Dio. Perciò abbiamo bisogno. Se non ci mettiamo niente, non ci troviamo niente. Perciò abbiamo bisogno di leggere, meditare ed ascoltare la parola del Signore. E noi facciamo questo ventiquattro ore al giorno. Grazie, Signore, a Dio per questa bella opportunità che ci dà. È come dire che come pastore mettiamo l'erba davanti alle pecore tutto il tempo, erba fresca per nutrirsi. Spero che tu hai fame Mettiamo anche acqua per dissetarti Spero che tu hai sete di Dio Questo è importante Perché è il nostro dovere come servitori del Signore di darti da mangiare Ma è il tuo dovere di mangiare Se noi mettiamo il fieno Mettiamo l'acqua E tu non mangi Non è colpa del pastore È colpa tua che non mangi Sia chiaro Noi dobbiamo essere chiari nelle cose Ora Lui ci dà Leggiamo il 25 e il 26 Con calma, non abbiamo fretta Prenditi gli appunti che ti servono Vi aspergerò di acqua pura E sarete puri Io vi purificherò di tutte le vostre impurità E di tutti i vostri idoli Vi darò un cuore nuovo E metterò dentro di voi Uno spirito nuovo Toglierò dal vostro corpo Il cuore di pietra Insensibile E vi darò un cuore Di carne Vuol dire sensibile Alle cose spirituali Di carne vuol dire flessibile Insegnabile Aperto all'apprendimento Umile È un nuovo spirito Lo spirito santo Con la volontà di pregare E di adorare il Signore Il suo spirito viene A dimorare dentro di noi Nell'Antico Testamento Solo pochi uomini O qualche donna Erano chiamati da Dio Ed erano posseduti Dallo Spirito Santo Nel Nuovo Testamento Invece Chiunque si accosta a Gesù Cristo E apre il cuore Riceve in sé Lo spirito santo Lo diciamo con calma In modo che tu Già cominci a cercare Lo spirito santo Dentro di te Mentre parliamo insieme Perché noi abbiamo pregato E lo spirito santo È già Vicino a te Su di te E cominci a parlare Al tuo cuore Gesù In Giovanni 14-16 Dice che io vi mando Lo spirito santo Leggiamolo insieme Io pregherò il Padre Ed egli vi darà Un altro consolatore Perché sia con voi Per sempre Lo spirito santo Per dimorare Che viene in noi Mentre ascoltiamo La parola del Vangelo La parola di verità In Efesini Capitolo 1 Verso 13 Dice che Quando scende Ascoltiamo la parola Lo spirito santo Fa un impianto Nella nostra vita Mette il suo sigillo In lui Voi pure Mentre ascoltiamo La parola Della verità Il Vangelo Della nostra salvezza E crediamo Nel Vangelo Avendo creduto In lui Qui hanno già creduto Avete ricevuto Il sigillo Dello spirito santo Che era stato Promesso Dove l'aveva Promesso Il signore Rileggiamo In Giovanni 14 16 Con calma Così abbiamo Chiaro in mente Credere Almeno sappiamo Che dobbiamo Credere Gesù aveva detto Io pregherò Il padre Ed egli Vi darà Un altro Consolatore Perché sia Con voi Per sempre Nella chiesa Gli efesini Sta dicendo L'apostolo Che loro L'hanno ricevuto Come L'abbiamo Ricevuto Noi Lo spirito Santo In noi Ci insegna E ci ricorda Le cose Che Gesù Dice Nella sua parola Quelle che abbiamo Ascoltato Quelle che leggiamo Li riporta In luce Li porta Sul display Come se fossero In un computer E quando Schiacciamo il bottone Vengono in luce Il tasto giusto Così lo spirito Santo Porta in luce Nella nostra mente Nel nostro cuore Ci ricorda Leggiamo anche Questo In Giovanni 14 26 Gloria Si è resa a Dio Per la semplicità Del Vangelo Così Non ci dilunchiamo In chiacchiere Che non servono A nulla Ma il Consolatore Lo Spirito Santo Che il Padre Manderà Nel mio nome Vi insegnerà Ogni cosa E vi ricorderà Tutto quello Che vi ho detto Spesso Troviamo Nel Vangelo Allora Si ricordarono Mentre Parlava Gesù Gli venne In mente Perché Gesù Era ripieno Di Spirito Santo Era nato Dallo Spirito Santo E come uomo Aveva la pienezza Dello Spirito Santo Ora Abbiamo Un cuore Nuovo Flessibile Come abbiamo Detto Una volta Che facciamo Questi passi Di ubbidienza Verso il Signore Accade Questo Nella nostra Vita Abbiamo Un cuore Nuovo Rileggiamolo Dove Ci viene Promesso In In Ezechiele 36 26 Questo Cambiamento Che viene Fatto Vi darò Un cuore Nuovo E metterò Dentro di voi In quel Computer In quel Nuovo cuore Uno spirito Nuovo Toglierò Toglierò Il vostro Corpo Dal vostro Corpo Il cuore Di pietra E vi darò Un cuore Di carne Fa Questo Trasferimento E la parola Di Dio Lava Ci lava Come abbiamo Letto In Efesini 5 26 Leggiamolo Un'altra Volta Così Ci Ricordiamo 5 26 Dice Così Ora Abbiamo Un cuore Nuovo Flessibile Flessibile Che vuol dire Insegnabile Aperto All All L'apprendimento Umile Nuovo Desideroso Di conoscere La nuova Via Di Dio Per Santificarci Serve Tutto Questo Ci Purifica E Ci lava Con L'acqua Della Parola Ci lava Tutto La parola Di Dio Che leggi La parola Di Dio Che leggiamo Che meditiamo Che ascoltiamo 24 ore Al giorno Come ho detto Che cosa fa? Come ci lava? Fa un lavaggio Nella nostra mente Nel senso Ciò che Ci persuade Mette Nuove idee Ci fa Imitare Imitiamo I santi Imitiamo Gesù Ci indirizza E ci rinnova La parola La parola Di Gesù È Spirito E Vita La parola Di Dio Ha questa Virtù Che è Il nutrimento della parte Spirituale Nella nostra vita La parte Spirituale Nella nostra vita Acquisisce Quelle idee Esprime Quelle idee Anziché Lodare Dio Invocare Dio Cercare Dio Bestemmia Dio E si allontana Da Dio Anziché fare Ciò che piace A Dio Fa Ciò che Dispiace A Dio Le idee Sono diverse È un altro Pianeto È un altro Mondo Quello È il regno Delle tenebre Dove noi Entriamo È il regno Della luce Quello È il regno Di morte Dove noi Entriamo È il regno Di vita Tutto Chiaro Grazie Sieno Resi A Dio Ci lava Tutto La parola Di Dio Mentre La leggiamo Mentre la meditiamo Mentre l'ascoltiamo Fa tutto questo La parola di Dio È Spirito È vita Perciò Ha questa sostanza Speciale Che nutre La nostra parte Spirituale Se tu vuoi diventare Forte nel Signore Devi leggere Meditare E mettere in pratica La parola del Signore Gesù Nel capitolo 6 Verso 63 Di Giovanni Dichiara Questo La parola Che io Le parole Che io Vi dico Sono Spirito E vita Leggiamolo Insieme Giovanni 6 63 È lo spirito Che vivifica La carne Non è di alcuna utilità Le parole Che vi ho dette Sono Spirito E vita Ora c'è una distinzione Netta Noi abbiamo La parte Cardale E la parte Spirituale Che sono In netto Contrasto Però In questo Contenitore C'è l'uno E c'è l'altro È come una Macchina Che va a gas E a benzina Solo che Sono Diversi Uno È Vapore Come vapore E l'altro È solida I recipienti Sono diversi Ma nella stessa Macchina Hanno due Carburatori Diversi Per carburare La benzina Ci vuole C'è Il carburatore Normale Per carburare E portare Forza Nella macchina C'è un impianto A gas Che è diverso Così siamo Fatti Non Ci rigenera Lo spirito Santo Lo spirito Santo La parola La trasforma Non so Se la regia Riesce a trovare Una di quelle Lampate A gas Di una volta Che era Gas di pietre Si mettevano dentro Si chiudeva Si tappava E poi si metteva L'acqua L'acqua Scioglieva il gas Usciva il vapore E faceva luce E faceva luce Era gas Ma diventava luce Così nella nostra vita Viene carburato Lo spirito Santo Cambia tutto E E in Tito Tito 3 5 Dice che porta Una trasformazione Nel nostro organismo Spirituale Leggiamolo insieme Tito 3 5 Dice così Egli ci ha salvati Non per opere giuste Che noi Da noi compiute Ma per la sua misericordia Mediante il bagno Della rigenerazione E del rinnovamento Dello spirito santo Vedi Come porto Un cambiamento Radicale Nella nostra vita Il più grande tesoro Per il cuore È la parola di Dio Per il cuore Non è roba da mangiare Non è roba da bere Non è roba fisica Nel Salmo 34 Nel Salmo 119 Verso 162 Davide Che Unto dallo spirito santo Dice Gioisco Della tua parola Come Chi trova Un grande bottino Produce La parola di Dio Nel nostro cuore Nel nostro cuore Produce Piacevoli Emozioni E spirituale Non si vede niente Lo sentiamo noi Nell'anima Produce Giubilo La presenza Dello spirito santo Dentro di noi Ci fa esultare Fa sentire gioia Fa come un solletico Dentro al cuore Un solletico Piacevole La sua presenza Addolcisce Tutta la nostra vita Per avere chiaro in mente Cosa succede Dentro di noi Abbiamo detto Che Gesù Era ripieno Di spirito santo Un bel giorno Trovandosi Con i discepoli Settanta Che erano appena Tornati Dalla missione In Luca Dieci Ventuno Leggiamo insieme Cosa fa lo spirito santo In quella stessa ora Gesù Mosso Dallo spirito santo Esultò E disse Io ti renderò Deo padre Signore del cielo E della terra Perché hai nascosto Queste cose Ai sapienti Agli intelligenti E le hai rivelate Ai piccoli Sì padre Perché così Ti è piaciuto Allora C'era una grande gioia Perché stavano ritornando Dalla missione Dicendo Che Avevano visto Grandi opere Grandi miracoli E Gesù Giubilava Nello spirito Nella versione Originale Dice Gesù Gridava Ed esultava Gioiva Come dire La grande gioia Del cuore Lo spirito santo Fa così Parla Ai settanta In fede Privatamente Questa Questa Piena Piena Pieni di spirito Santo Come me Leggiamo il verso 21 Parlava Parlava i settanta In fede Privatamente Questi erano Lui era pieno Di spirito santo E dice In quella stessa Ora Gesù Mosso Dallo spirito Santo Disse Ti rendo lodeo Padre O Signore Del Cielo E della Terra Perché hai nascosto Queste cose Ai savini Intelligenti E le hai rivelate Ai piccoli Fanciulli Sì Padre Perché così Ti è piaciuto Che cosa vuol dire Questo In greco Dice Stava saltando E gridato Di gioia Cioè Gesù Esprime Gratitudine Che il padre Dà Questo Ai semplici E non A chi si sente Un saggio Religioso Queste cose Si assaporano Nel cuore Non sono cose Che si Possono Mostrare È come Quando tu Assaggi qualcosa Che cosa Devi mostrare Allora Il cambiamento Che porta Nella nostra vita Il nuovo cuore E il nuovo spirito Riproduce Dentro di noi Proprio Questa gioia Celeste Che ci fa Saltare Di gioia Ci sono Dei fratelli E delle sorelle Che adesso Mentre ascoltano Gioiscono Perché quando Noi parliamo Delle cose Spirituali Lo spirito Santo È presente E lui Stimola Questa gioia Nel cuore Dei credenti Quelli che hanno Ricevuto Il cuore Nuovo Adesso Sono Gioiosi Rileggiamo La continuazione Del cuore Nuovo Che cosa Succede Dopo Leggiamo In Ezechiele 36 26 E 27 Che sei Bello Signore Ti amiamo Ti amiamo Vi darò Un cuore Nuovo Metterò Dentro Di voi Uno spirito Nuovo Toglierò Dal vostro Corpo Il cuore Di pietra E vi darò Un cuore Di carne Ora Leggiamo Ora leggiamo Il verso 27 Metterò Dentro Di voi Il mio Spirito E farò In modo Che camminiate Secondo Le mie Leggi E Osserviate E mettete In pratica Le mie Prescrizioni Bellissimo Anche Questo La parola Di Dio Fa Questo Egli ci ha Salvati Non per opere Giuste Da noi Compiute Ma per la Sua Misericordia Mediante Il bagno Della Rigenerazione E del Rinnovamento Dello Spirito Santo Questa Opera La svolge Nel nostro Intimo Lo Spirito Santo Questa Cosa Non si Vedono Si Gustano Dentro I Credenti Hanno Questa Gioia Celeste Dentro Che Fuori Si Vede Soltanto Il viso Un po' Più Calmo Più Gioioso Però Realmente Chi Gode Di Questo E' Il Credente Perché Gli altri Se tu Stai Gustando Qualcosa E hai Una Caramella In bocca Te la Stai Gustando Tu In Primo Pietro Capitolo 2 Verso 3 Ci Aiuta A Comprendere Come Evolve Se davvero Avete Gustato Che il Signore Buono Perché Questo Ci fa Gustare Che il Signore Buono Cioè Se avete Percepito Se avete Gustato Che il Vino E Buono Come Diceva Il Capo Della Tavola Delle Nozze Di Cane Assaggiò Il vino E disse Ma Questo E' Meglio Di Prima Gli altri Conservano Il vino Brutto Per dopo E tu Hai dato il vino Buono Per dopo Dove c'è Gesù Si assaggiano Altre Cose Lui E' Buono E fa Le cose Per bene Assaggiare Un'aranciata E Siamo Noi Che L'assaggiamo Li Percepiamo Come Il vino Come L'aranciata Come Percepiamo Che Dio E' Buono Lo Dobbiamo Assaggiare Dobbiamo Aprigli Il cuore Se no Che Diciamo Molti Dicono Dio Non c'è E tutto Questo E che Ne sa Infatti Nel Salmo 34 Verso 8 C'è Un invito Serve Per noi Oggi Per me Per te Perché Ne voglio Anche Io Ancora Leggiamolo Insieme Provate Assaggiate E vedrete Quando il Signore E' buono Beato L'uomo Che confida In Lui Beato L'uomo Che ci crede Beato L'uomo Che si nutre Di Lui Che resta In comunione Con Lui Ora L'invito E' fatto E' vita Pure Te Se tu Ascolti E non Desideri Ti rivolgi A Lui Signore Voglio Anch'io Assaggiare Voglio Anch'io Bere Di questo Tuo Vine Come Quando dice Gesù Chi ha sete Venga a me E beva Qui non si tratta Di dire Questa è un'altra Religione Nella mia Religione Si capisce Diverso Oppure Bisogna Vedere Che Interpretazione Gli Diamo Quando Gesù Dice Chi ha sete Venga a me E bevi Tu puoi essere cattolico Musulmano Che sei Sei Quando ti accosti a Gesù Lui ti abbeverà E così è qui Leggiamolo un'altra volta Provate Assaggiate Vedrete Quando il Signore E' buono Beato l'uomo Che confida in lui Qui c'è un invito Allora Vedi Molti non assaggiano E poi parlano No qua Non là Non c'è niente E se tu Non hai assaggiato Che ne sai No ma Dio Non c'è proprio Ma scusa Ma sai Quando è grande L'universo Non bastano Miliardi di anni Luce Tu prima ci devi andare Poi torni E dici Non c'è nessuno Ma se tu stai qua E come chiudere Le finestre Mentre il sole Batte a mezzogiorno E tu chiudi tutte le finestre E dici Non c'è il sole Ma perché ti sei chiuso tu Ti sei chiusa tu E dici che non c'è il sole Prova a uscire fuori E vedi che ti picchia in testa Noi dobbiamo essere coscienti Dobbiamo essere prima di tutto Sinceri Qui c'è un bell'invito Leggiamolo un'altra volta Provate Assaggiate E vedrete Quando il Signore è buono E altro L'uomo Che confida in lui Lo vuoi assaggiare Ma io non ti devo portare niente Da assaggiare Tu ti devi rivolgere al Signore Signore Io ho bisogno di te Ti voglio nella mia vita Ti voglio nel mio cuore Perché questo è spirituale Non è che posso Io ti porto la parola del Signore Perché essa contiene Questa virtù Lo abbiamo letto Nel capitolo 1 Verso 13 Degli Efesini Leggiamolo un'altra volta Perché se no Pare che parliamo E non sappiamo che diciamo Ma noi sappiamo che diciamo In lui voi pure Dopo aver ascoltato la parola della verità Il Vangelo della vostra salvezza E avendo creduto Perciò tu devi cominciare Perciò tu devi cominciare già a cercarlo se vuoi Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo Che è stato promesso Ma se tu non lo cerchi Non lo inviti Non lo invochi Come dice la sua parola Poi dici non c'è Ma scusa Non mi far dire Che se no ti posso offendere Come ragioni Se tu non sai Che dici Lo stolto dice in cuor suo Lo stolto non perché non è intelligente Ma perché ha preso una via stolta Una logica sbagliata Signore aiutaci Rivolgiti a Lui Perché Lui ti ascolta Sta a sentire che ti dico Qui c'è un invito Leggiamo il primo Pietro 2.2 Così comprendiamo in pratica Come muoverci Segnati questi versi Poi vai a leggere Qui dice addirittura Come bambini appena nati Dobbiamo desiderare Il puro latte spirituale Cioè la parola di Dio Perché con essa Con esso cresciate per la salvezza La parola di Dio Per noi È come il latte Pure stamattina l'ho bevuto Lo bevevo quando sono nato Da mia mamma E l'ho bevuto pure stamattina Sono più di 80 anni Che bevo il latte Perché c'è un nutrimento Per il mio corpo Così è la parola di Dio Non è solo per un periodo Sempre Leggiamolo un'altra volta Molti non si nutrono E poi non crescono Come bambini appena nati Desiderate Hai visto come piange il bambino Che vuole per forza Il puro latte spirituale Perché con esso Cresciate per la salvezza Lo sai come fa il bambino? Perché ha un istinto dentro Che se non gli metti in bocca il latte Come se lo prende la mamma E lo mette vicino a poppare Zitto Non dice niente più Però ci sono degli altri valori Che entrano in azione Quando fa così Non solo beve Ma ci sono degli anticorpi Che cambiano la sua vita Lo rafforzano Così quando noi stiamo vicino al Signore Quando noi stiamo nella sua presenza Come Mosè Cambiava faccia Come quando stiamo al sole Perciò abbiamo bisogno Di dedicare del tempo Per nutrirci Del Signore Gesù Se non lo fai Spiritualmente Vai cadendo Ti senti debole Perdi l'equilibrio E non ragioni più Spiritualmente non ragioni Perché? Perché la debolezza Ti fa sbandare Ti fa dire cose Che non sai manco tu che dici Desiderate vuol dire Appetite la parola E' l'unica alimentazione La nostra crescita E' rapportata alla conoscenza Che noi abbiamo Della parola Hai provato? Se non hai provato Come fai a dir? Perciò il Salmo 34 Verso 8 Ti invita Di provare Comincia subito Lo puoi fare a casa Lo puoi fare in macchina Dove sei? Leggiamo un'altra volta Questo Salmo Dice Provate e vedrete Quanto il Signore è buono Beato l'uomo Beato la donna Che confida in Lui Continuiamo a leggere in Pietro Capitolo 2 Primo Pietro 2-3 Dice così Se davvero avete gustato Che il Signore è buono Lo studio e l'applicazione di essa Della parola Ci fa crescere Ma il nostro punto Deve essere Gesù Nel verso 4 Il punto di riferimento Accostandovi a Lui Pietra vivente Rifiutata dagli uomini Ma davanti a Dio Scelta e preziosa A noi non ci interessa Che pensano gli uomini Che cosa hanno fatto gli uomini Ci interessa Dio Che ha mandato il suo figlio Il suo figlio come vero Dio Il vero uomo E' venuto a parlarci E' andato la sua vita Come prezzo di riscatto Per me e per te Ci dobbiamo alimentare di Lui Lui lo spiega chiaro Non ci confondiamo Perché poi non vediamo risultati Lui in un esempio Che ha portato In Giovanni capitolo 15 Verso 5 Dice Io sono la vera vita Voi siete i tracci Leggiamo insieme Giovanni 15,5 Io sono la vita Voi siete i tracci Colui che dimora in me E nel quale io divoro Porta molto frutto Perché senza di me Non potete fare nulla Tu puoi sbattere la testa Dove vuoi Senza Gesù Perdi tempo Puoi essere imbottito Imbottita Imbottito di tradizione Di religione Di religiosità Di sacrifici che fai Ti impegni Ma se non hai comunione con Gesù Tu perdi il tempo Puoi fare pure 20 culti al giorno Devi avere del tempo E dentro di te Ci deve essere sempre un desiderio L'animo tuo Si deve rivolgere costantemente al Signore Devi fare quello che ti dice nel cuore Ci sono tanti religiosi Anche evangelici Che corrono Corrono Cantano Gridano Fanno No Ascolta Noi o crediamo Che dice Gesù Se no Ci riempiamo di chiacchiere Leggiamo un'altra volta Questo verso Per cortesia È come un tralcio Che non è legato alla vita Sai che basta Io sono la vita Voi siete i tralci Colui che dimora in me E nel quale io dimoro Porta molto frutto Perché senza di me Non potete fare nulla Gridiamo Facciamo Diciamo Corriamo Dove vai? Non perdere tempo Fermati E cominci a cercare il Signore Dì Signore Io voglio avere comunione con te Dove sei? Puoi essere in un letto malato Malata Non ti puoi muovere Ti senti spezzata Ti senti travagliata È l'unico punto di riferimento E lui è proprio dove sei tu Perché lui è onnipresente Lo sai Spiritualmente è dove sei tu Tu magari hai corso A destra, a sinistra Portando processioni In Italia poi In questo tempo Di feste Che ci sono Un paese lasci Un paese prendi È una tragedia Tutta confusione Tutta confusione Ci sono tanti Che anziché Lodare Dio Bestemmiano Perché non sanno Dove mettere la testa Quando arrivano Ste feste religiose Che ci sono In una famiglia Che ha cinque Sei figli Chi vuole il pantaloncino Chi vuole la giacca Chi vuole i soldi Per la festa I genitori non sanno Dove devono mettere la testa Anziché Mettersi a lodare La statua che passa Si mettono a bestemmiare Perché dice Ma questa Che serve Sta cosa In realtà Non serve a niente Gesù ci semplifica La vita Leggiamolo un'altra volta Dove ti trovi Dove sei Così devi fare Come dice il Signore Io sono la vita Voi siete i tracci Colui che dimora in me Nel quale io dimoro Porta molto frutto Perché senza di Gesù Non puoi fare nulla Ricorda Che all'inizio Che abbiamo letto Il processo Comincia in un modo Molto chiaro Abbiamo letto Il primo verso In Ezechiele 36 25 Leggiamolo un'altra volta Perché c'è qualcosa Che non abbiamo notato insieme Vi aspergerò di acqua pure Sarete puri Io vi purificherò Da tutte le vostre impurità Stregoneria Bestemmie che abbiamo fatto E di tutti i vostri idoli Mettici il verde Per cortesia Sopra gli idoli Perché questi Molte volte Noi ce li portiamo dietro Li dobbiamo lasciare Mettici il verde Tutti i vostri idoli Li dobbiamo lasciare Questi sono Un grande impedimento Questi ci impediscono Di avere comunione Con Dio In primo corinzi 10.14 Dice così Leggiamo Perciò Miei cari Fuggite l'idolatrice Sono due cose Che non vanno d'accordo Dio Dio E gli idoli Non ci pensare Proprio Se sei un idolatrice Se sei un idolatrice Pensaci per un attimo Ma anche nei comandamenti Lo dice Leggiamo insieme In Esodo Capitolo 20 Verso 4 e 5 Dice che non li dobbiamo fare E non ci dobbiamo prostrare davanti Perché Lui non vuole Non farti scultura Ne immagini alcune delle cose Che sono lassù nel cielo O qua giù sulla terra O nelle acque sotto la terra Ascolta questo è il comandamento Non ti prostrare davanti a loro E non li servire Perché io Il Signore Il tuo Dio Sono un Dio geloso Punisco Chi fa queste cose Dei padri Sui figli Fino alla terza E alla quarta generazione Di quelli che mi odiano Questo vuol dire Odiare il Signore Ora questo comandamento E anche nel Nuovo Testamento E qui In Primo Corinzi 10.14 Dice Che dobbiamo fuggire Da queste cose Come se fosse il diavolo Leggiamolo insieme Miei cari Fuggite l'idolatrice Leggiamo il verso 15 Io parlo come a persone Intelligenti E se non lo sei Adesso diventi intelligente Perché lo sai Giudicate voi Quello che dico Beh Ci manca il tempo Perché l'orario scorre Leggiamo il verso 26 Dice Io non voglio che voi Dovete avere comunione Con questi Perché questi sono demoni Leggiamo insieme il verso 21 Voi non potete bere il calice Del Signore Prenderti la messa La comunione E il calice dei demoni Voi non potete partecipare A nutrirvi della mensa Del Signore Del Signore E della mensa Dei demoni Chiaro E tonto Questa è una decisione Da prendere Certo tu in questo momento Mentre stai ascoltando Non è che riesci a togliere Tutto di mezzo Però dentro di te Devi sapere Che queste sono cose Che non piacciono al Signore Da questo momento Se vuoi avere comunione Con Dio Devi dire Signore Perdonami E adesso Signore Aiutami a togliere Via di mezzo Tutto Negli Atti degli Apostoli Mentre predicavano Il Vangelo Quando si convertivano Quelli che erano Dedicati agli idoli Gli stregoneri E che facevano Queste funzioni Bruciarono tutto Gli Apostoli Gli facevano bruciare Tu non sai dove è scritto Leggiamo insieme Nel capitolo 19 Scriviti queste cose Che dopo vai a leggere Leggiamo Verso 18 e 19 È importante Molti di quelli Che avevano creduto Venivano a confessare E a dichiarare Le cose che avevano fatte Perché è sbagliato Fra quanti avevano esercitato Le arti magiche Molti portarono i loro libri E li bruciarono in presenza Di tutti E calcolato nel prezzo Trovarono che era di 50.000 Dramme D'argento 50.000 Giornate Di lavoro Se prendi 100 euro Al giorno 50.000 Volte 100 C'erano Idoli C'era di tutto E di più Grazie Signore Questo vuol dire Togliere di mezzo Gli idoli Come abbiamo detto Ora Non fai in tempo Ma devi sapere Che questo Questo è il metodo Che fa crescere La parola di Dio Dentro di te Ti sbarazzi di quello E metti dentro La parola di Dio Che ti purifica Mette le idee nuove Che essa contiene Leggiamo il verso 20 È l'unico modo Per crescere Così La parola di Dio Cresce nella tua vita E si afferma Dentro di te E ti fortifichi Nel Signore Adesso non lo puoi fare Però decidilo Dentro di te Di Signore Ora che vado a casa Tutte quelle cose Che tu mi fai comprendere Che sono di ostacolo Via Così abbiamo fatto noi A casa nostra Abbiamo fatto così Eravamo addirittura Andati in Africa Abbiamo comprato Delle cose Ma quelli Ci fanno Delle 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 Dicerie Sopra Quella specie Di cose di legno Che vendono Che sono Delle statuette Che loro Le adorano Ci fanno Tutte Tutte le cose Diaboliche Sopra Abbiamo detto Con mia moglie Togli tutta sta roba Qua Questa è tutta roba Che Infetta Solamente La casa Sono Rappresentanze Di forze Diaboliche Demoniche Che Gli spiriti Della campagna Gli spiriti Della foresta Gli spiriti Dell'acqua Come Come li chiamano Loro Non ci pensare Proprio Toglili Di mezzo Perché Dove sono Infettate Di stregoneria Di tutte Queste cose Ti infettano Che tu Non puoi Immaginare Mi ricordo Un fratello Che era Dottore Andò in Africa E Nell'albergo C'era una ragazza Lungo le scale Che gli voleva Fare i massaggi Perché gli faceva Male la schiena E così via Lui disse Sì Va bene Ma quella Non era Fisioterapista Sai che cosa Faceva Invocava Gli spiriti Sopra di lui Mentre lo Massaggiava E quasi Sembrava Che si sentiva Bene Quando tornò A casa Si accorse Che era Posseduto Da spiriti Malvangi Dovette Invocare Il Signore Chiedere La purificazione Perché Per mezzo Dell'imposizione Delle mani E delle invocazioni Di questi spiriti Si era posseduto Lo avevano Posseduto E lui pensava Che stava meglio Ora non lo fai Non fai in tempo Ma devi sapere Che questo Fa crescere in te La parola di Dio E così cresci Decidilo adesso E poi lo fai Però ricevi Cristo Nella tua vita Il processo Il processo Di questo cambiamento È meraviglioso Perché Dio Lo fa Riepiloghiamo 36 25 a 27 Così Sappiamo Sappiamo come Dio Cambia tutto Nella nostra vita Vi darò Un cuore nuovo Metterò dentro Di voi Uno spirito nuovo Toglierò Dal vostro corpo Il cuore di pietra E vi darò Un cuore sensibile Alle cose Di Dio Che desidera Adorare E pregare Verso 27 Metterò dentro Di voi Il mio spirito E farò in modo Che camminiate Secondo I miei statuti Le mie leggi E osserviate Mettiate in pratica Le mie prescrizioni Cedi Al Signore Lui cambia Il tuo cuore E la tua vita Oggi Ricevi un cuore Nuovo Un nuovo Spirito Questo vuol dire Nascere Di nuovo Vuoi vivere Una vita Nuova Invochiamo Il Signore Insieme Perché il Signore Fa proprio Questo cambiamento Nella tua vita Puoi pregare Insieme con me Di insieme Con me Signore E' proprio Questo Che ho bisogno Ti prego Vieni Nella mia vita Perdonami Signore Lavami Col tuo Santo Riempimi Di Spirito Santo Ti voglio Dentro di me Signore Ti voglio Ti voglio Ti voglio Ti voglio E da questo Momento Signore Voglio che tu Resti nel mio cuore Fino al mio Ultimo respiro Grazie Grazie Signore Per la tua Parola Grazie Che tu Mi offri Oggi Un cuore Nuovo Uno spirito Nuovo E un modo Nuovo Di adorare Cercare La tua Tua presenza Amen Hai ascoltato un messaggio Registrato in diretta Continua a seguirci Sui nostri canali social O sul sito www.paroledivita.org